Ieri 13 dicembre il gremio dei calzolai ha rinnovato la propria festa maggiore. Al mattino, al termine della messa celebrata nella cattedrale di San Nicola dal vescovo emerito Monsignor Pietro Meloni e animata dal coro Nova Eufonia diretto da Vincenzo Cossu, si è svolta la tradizionale cerimonia dell'intregu. L'obriere maggiore è Alessandro Virdis che subentra Giuseppe Dettori, mentre Michele Usai è l'obriere di Candeliere. Nominati anche i nuovi soci onorari sono i fratelli Luciano, Franco e Roberto Sini, Massimo Luglio e Maurizio Ruzzetta. In serata la processione con l'effigie di Santa Lucia ha attraversato il centro storico. Hanno partecipato i gremi cittadini. L'accompagnamento musicale è stato curato dal corpo bandistico Luigi Canepa. Il gremio dei calzolai è uno dei più antichi sodalizi di arti e mestieri. Citata dagli statuti sassaresi, la corporazione compare in tutti gli scritti e memoriali, anche ufficiali, che regolano la faradda. Il primo statuto venne però redatto solo nel 1564. La patrona dei calzolai è Santa Lucia, riportata sulla bandiera e sul fusto del Candeliere, realizzato nel 1924 dalla ditta Clemente e che si caratterizza per le quattro colonnine intorno a quella centrale. Il Candeliere è stato restaurato dai fratelli Sini nel 2012. La festa maggiore si celebra nel Duomo di San Nicola dal 1610. Ancora nel XVI secolo la cappella del gremio era invece intitolata alla Madonna dello Spasimo e si trovava presso il chiostro di Santa Maria di Bethlehem. La Madonna dello Spasimo con i Santi Crispino e Crispiniano sono rimasti copatroni della corporazione.